Ciao a tutti, io sono Aaron e devo nascondere questi ingredienti per mia sorella perché lei deve cercare questi ingredienti e deve fare lo slime, quindi aiutateli voi a nascondere. Ok, allora, prima di tutto il bicarbonato va dietro la tenda, poi i glitter vanno qua vanno qui, poi la spatola va sotto, aspettate un attimo, va qui, ecco, sono libero. Poi la ciotola va dietro la televisione, dopo il liquido per lenti va dentro l'armadio e la colla va, 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 aspettate un attimo, va, 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 va qua dietro, eccomi, adesso, va, 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 li deve trovare, va, 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 va. Pazzo, mamma mia, mamma mia, mi ha nascosto degli ingredienti e dello slime, io devo creare per poi fare lo slime, ma io riesco a crearlo, finco. speriamo di sì, speriamo di sì, ok, perfetto, allora iniziamo, allora andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua, cerchiamo, vediamo qui, vediamo qui, tra questi, non vedo niente, poi vediamo qui dentro, qui non so, potrebbe essere, vediamo qui dentro, vediamo qui dentro, vediamo tutti gli ingredienti, dove potrebbero essere gli altri, certo, qui sotto, no, andiamo a vedere sotto la scrivania, ragazzi, vediamo qui, ragazzi, vedete la chiave, dove sarà mai Asia, sentono le nodorie di Asia, dove sarà mai, dove sarà mai, forse è dietro la scrivania, eccola, eccola, è l'ora di arrestarlo, aiuto, 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 ho colpito, ma adesso abbiamo due ingredienti, allora, allora dove potrebbero esserci, aspettate un attimo, ok, forse, so dove possono essere, ragazzi, guardate, qui è bicarbonato, troppo importante questo, mi devo ancora tanti altri ingredienti, so dove cercare, forse qui, ma certo, perché non avevo pensato bene, non c'è niente, sotto, nemmeno, ma, stanno, riesco proprio a, ragazzi, 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 ho trovato l'aciuto, l'aciuto, adesso, adesso, non c'è che cercare la colla, mi sa che in questa stanza, non c'è più, non c'è nulla più, andiamo a cercare la colla, oddio, andiamo a cercare la colla, dove sarà, forse è sotto la sedia, controlliamo questo tavolo, vedete qualcosa? non c'è, non c'è, non vedo nulla, madre santissima, non vedo neanche nulla, niente, voi vedete qualcosa? non c'è, ma certo, come fanno, per me dire, questa è la colla, aiuto, nascondiamoci quanti, Dov'è andato? Su, domami, quella cosa mi serve, quella stanza, tutti gli ingredienti, aspetta. Aspetta, ti vuoi andare. Ti vuoi andare. Dov'è? 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 Si ho trovato il tipo al storo! All'aiuto, era proprio, proprio lui. Devo creare lo slime al più presto possibile. Allora, aspetta che il sistema è molto difficile. Abbiamo qua la colla, aiuto, metto un po' di colla. Abbiamo una cosa ben formata, guardate! Oddio! Messo la colla, adesso ti devo fare mettere il bicarbonato, certo? Certo, 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 il bicarbonato è un po' di colla. Sì! 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 Mentre la mamma mi è caputa! Mi scorrego! No! 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 È iniziato! sento pussa di carciù di avesina pare che ha di giusti sta proprio buono dove sta odorando i peperoni dei bambini ma perchè questo consumante non si forma la cassa? secondo me vale anche se stanno tutti gli ingredienti qui dentro perchè sono pronti a chiamarlo questa bella ehi puliziotto pazzo eccoci ho fatto lo slant ci sono tutti gli ingredienti qui dentro cosa mi vorresti dire? ehi puliziotto pazzo mi è spinuto ragazzi si è avviva andiamo a vedere se è tornata la normalità ehi puliziotto pazzo ma che ti sei bevuto al cervello? ma io sono Aaron cosa? sono Aaron, non sono un puliziotto pazzo ah non sei più pazzo, ingredienti, slime, ma se ti acchiappo ma che? vabbè è una lunga storia, te la racconto dopo comunque devo fare i saluti dopo ti racconto vieni a fare i saluti intanto ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.